A Daniela, lei sa, o dovrebbe sapere. Dei profondi sclamavi. Lascio questa scrittura, non so per chi, non so più intorno a che cosa. Umberto Eco, il nome della rosa. La vita è semplice, ed è fatta di pochissimi, altrettanto semplici elementi. Come il DNA, con sole quattro componenti, costituisce l'essenza di tutto ciò che è, così la vita si riduce a poco. Il tempo, il linguaggio e la conoscenza. Non c'è altro. La vita non ha una lunga durata diacronica, ma possiede un'ampiezza sincronica, una dilatazione e l'offerta della possibilità di fare. Il tempo di chi si trova in carcere è ben diverso dal tempo di chi si sta godendo una vacanza, eppure è lo stesso identico tempo. Tutto il resto è sovrastruttura e complicazione costante. Tutto ciò che è complicato non è proprio della vita, ma dell'essere umano. Nasciamo perfetti. Su questo non v'è dubbio. Perfetto è il nostro sistema immunitario, che andremo ad alterare via via, perfette sono le nostre prospettive, il nostro stesso essere uomini o donne. La nostra fallibilità è integra, e poco importa se andremo a finire con l'essere delinquenti o santi. Abbiamo dentro di noi e fuori da noi tutto il tempo della nostra vita. Nasciamo tutti anarchici. Qualcuno riesce addirittura a mantenersi tale. Il bambino non sa che ore sono, piange quando ha fame, non si preoccupa delle deiezioni del proprio corpo, non conosce le regole del mondo e le leggi della società. Eppure è perfetto così. Sono gli altri che gli proporranno modelli preconfezionati di adesione a questa o quella ideologia, a questo o quel partito politico. Appena nati, né religione, né il pensiero o il tormento di Dio ci sfiorano. Ce ne occuperemo poi. O ci costringeranno ad occuparcene. Dipende. Dio è una delle nostre maggiori preoccupazioni e sovrastrutture. Dio è una ipotesi non necessaria. Gli uomini se lo sono inventati. Caricandolo di titoli, Signore onnipotente, Creatore altissimo, misericordioso, di simbologie e racconti. Molti, moltissimi. L'esigenza di Dio nasce dalla paura della morte, dal bisogno di credere che non moriremo del tutto, che esiste una dimensione ulteriore, altra, terrena o ultraterrena. Ma la morte, quando veniamo al mondo, non sappiamo nemmeno se esista. Non conosciamo niente di lei. Segno che è poco interessante. Basterebbe arrendersi, constatare, accettare, tutto finisce, ma la fine di tutto non dovrebbe servire da spauracchio per le coscienze, bensì per dare un senso compiuto alla propria vita. Al contrario, l'unico senso che il genere umano riesce a vedere della propria vita determinata e limitata nel tempo è l'illusione che non finisca del tutto. La procreazione e la prosecuzione del nostro io sono la conseguenza logica di tutto ciò. Chiamiamo atto di amore quello che è un vero e proprio agire per puro egoismo. Quelli che chiamiamo i nostri figli non sono nostri. Per loro siamo degli esempi, sì, ma non come modelli di specchiata virtù. Compiono le loro scelte giuste o sbagliate che possiamo ritenerle e ci disperiamo quando le riteniamo sbagliate dimenticando o non sapendo che sono altro da noi. Generati, non creati a nostra immagine e somiglianza. Nel racconto dei Vangeli sinottici l'ultima frase pronunciata dal Cristo sulla croce è in aramaico e si riferisce al lamento per l'abbandono da parte del Padre. ma Giovanni cambia la prospettiva. È compiuto avrebbe detto il suo maestro dopo il tormento nell'orto degli ulivi l'umiliazione la derisione e le lacrime delle donne ai piedi del simbolo del suo disprezzo sociale Cristo pone a suggello della sua vita ciò che è valido per tutti il compimento. Ci viene insegnato che la nostra vita è macchiata da una colpa il peccato originale si chiama così proprio perché è all'origine di tutto il principio l'alfa l'alef il motore immobile eppur dinamico dell'esistenza. L'uomo non è fatto per il tempo ma il tempo è fatto per l'uomo il tempo rappresenta la nostra scommessa più grande le leggi ci insegnano che il lavoro è l'impiego più nobile ed elevato del tempo ed è pur vero tutti vogliamo e dobbiamo lavorare per il nostro sostentamento e per quello delle nostre famiglie per la dignità che comporta e per il contributo che dobbiamo dare alla società. Chi non vorrebbe per i propri figli un futuro migliore del tempo che stiamo vivendo noi stessi eppure facciamo in modo che questo tempo che costituisce la parte maggiore di quello che materialmente possediamo venga annichilito e svilito da infinite complicazioni successive perché c'è sempre una colpa da espiare e allora sentiamo l'ineludibile necessità di farlo con lo strumento della sofferenza la sofferenza come ogni altro tipo di dolore compreso quello della donna nel parto come stabilisce il mito della genesi non servono ad alcunché sono inutili sterili maledettamente inerti ed è per questo motivo che riescono così appetibili siamo attratti dalla sofferenza perché ci sembra l'unica soluzione che conduca al riappropriarci di noi stessi finito di soffrire ci diciamo riprenderemo il nostro cammino che non si era mai interrotto per il solo fatto di averlo interrotto noi stessi perché non si interrompe il tempo Oscar Wilde diceva in uno dei suoi caustici aforismi che la vita è tutto ciò che ci accade mentre siamo impegnati a fare qualcos'altro ed è vero ci dedichiamo all'inutile soffrire mentre la vita gode di un tempo proprio e inarrestabile soffrire è il vero autentico peccato la bestemmia lo sfregio l'acido gettato violentemente sul volto di noi stessi già che ci rende inerti fermi solitari e pigri certo si soffre se qualcuno a cui abbiamo voluto bene viene a mancare o patisce una malattia grave siamo anche degli eterni egoisti perché ci illudiamo che la nostra sofferenza basti di per sé allenire tutto il dolore dell'umanità o di chi ci sta accanto egoisti e presuntuosi ma se non lo facciamo veniamo tacciati da insensibili persone che non sentono il sentire è la funzione della psiche che l'uomo ha meno coltivato e allenato nel corso della sua storia del resto la funzione psichica è adoperata dagli individui al massimo entro il 5% di tutto il resto non sappiamo niente non lo sappiamo perché nessuno ci ha mai insegnato che esistono un mondo interno e un mondo esterno ciascuno retto da regole proprie e che questi due mondi devono essere ben tenuti separati se non vogliamo che accadano dei disastri irreparabili per noi e per gli altri nel corso dei secoli nessun uomo è stato mai interrogato su ciò che autenticamente provasse oggi forse banalizzando ma neanche poi troppo tutti sappiamo e abbiamo sufficiente coscienza del fatto che possiamo preferire un panino con la cioccolata a colazione e uno col salame a pranzo e certamente nessuno avrebbe dubbi su cosa scegliere a seconda dei propri gusti personali se l'opinione ci venisse posta davanti in quello stesso momento banale dunque certo ma un panino al salame e uno con la cioccolata non sono la stessa cosa e il nostro sentire e conosce sa stabilisce in modo perfetto quale dei due scegliere ma nessuno ha mai badato a questo non a caso la psicanalisi ha fallito Freud ha aperto uno spiraglio all'umanità ma ci è riuscito migliaia di secoli dopo da quando l'uomo è comparso sulla terra si tratta di una scoperta tardiva e per certi versi insufficiente e inappropriata se per la patologia psichica del primo novecento si è principiato ad usare l'approccio psicoanalitico per migliaia di anni si sono adoperati ora lo stigma sociale ora il rogo ora l'allontanamento dal contesto sociale fino ad arrivare all'esclusione alla morte civile e i pazienti di Freud certo dovettero trovare molta consolazione dignità nell'approccio negli studi e nei saggi del viennese ma stavano male nel qui ed ora la scoperta di dissidi con le figure paterna e materna costituisce una spiegazione ma non una cura oggi lo chiamerebbero col nome ambiguo e generalizzato di disagio in fondo lo scopo della psicoanalisi almeno a livello terapeutico è quello di distruggere i sistemi mentali del paziente e sostituirli con modelli nuovi o a lui sconosciuti ma nessuno è mai venuto a chiederci cosa sentiamo e cosa pensiamo noi l'io è rimasto inascoltato per interi decenni e i modelli proposti non sono altro che quelli sociali dettati dal conformismo e dal raziocinio che non si è mai preso cura di quello che proviamo lo star bene è sempre stato confuso con l'adesione acritica ai modelli della maggioranza che usa il pensiero raziocinante si sta bene se si hanno beni materiali dei figli e risorse economiche sufficienti ancorché mai bastevoli ai bisogni primari si sta bene perché così è la vita che altri pretendono di insegnare codificare imporre noi gli individui non esistiamo in quanto tali e se pure ci azzardiamo per un solo momento a rappresentare il nostro io per quello che è ne paghiamo serie e peggiori conseguenze una ragazza adolescente che soffre perché è stata lasciata dal fidanzatino considera il suo disorientamento un problema molto serio come naturale che sia quindi darà questo aspetto del suo patire la massima priorità il raziocinio tuttavia la tratterà ridimensionando il proprio sentire con frasi come ci siamo passati tutti poi ti passa o non sono questi i veri problemi della vita certo di colui che parla no ma dico lei che ascolta certamente ciascuno è strutturato secondo il proprio sentire e anche molto bene questo costituisce la diversità il cui concetto tutto è estremamente vago duttile e malleabile da una parte si dice che la diversità è ricchezza del resto proprio sulla diversità si basano le costituzioni delle democrazie occidentali dall'altro lato tuttavia si fa del nostro peggio per ricondurre la diversità a uno status più normale consueto conosciuto e rassicurante se la non distinzione tra mondo esterno e mondo interno costituisce un pericolo non minore allarme rappresenta la sostituzione dei fatti con le opinioni perché è esattamente qui che nascono l'odio il disprezzo le guerre e i conflitti l'uomo non ha altro che i fatti a propria disposizione la storia stessa è inevitabilmente incerta e la nostra conoscenza del passato è piena di lacune frammentaria non solo perché le fonti e i documenti sono corrotti o perduti ma perché l'uomo stesso è portato alla loro cancellazione dalla memoria quello che ci serve si sa quello che non ci serve è destinato a rimanere nella sepoltura dell'oblio la storia non è quel che è o quel che è stato ma ciò che l'uomo ha scelto di assurgere al ruolo di sistema del resto accade questo anche in contesti assai diversi della vita quotidiana per esempio in un procedimento penale dove non si viene assolti o condannati in base alla realtà dei fatti ma a ciò che viene ricostruito provato ed accertato in questo la giustizia che poi è la legge di fatto non bada alla verità ma a ciò che le risulta se non risulta che Tizio abbia ammazzato Caio Tizio viene assolto anche se è stato effettivamente Tizio ad uccidere Caio i fatti sono degli elementi primitivi anzi primi sono semplici dati per molti versi possono essere anche insufficienti ai bisogni umani ma sono tutto ciò che abbiamo tuttavia siccome i fatti non ci bastano occorre integrarli contaminarli e sostituirli con le opinioni così se qualcuno vede che Tizio uccide Caio sarà portato a pensare che Tizio sia un delinquente matricolato per indole natura o tendenza oppure che Tizio sia vittima di una società cattiva ed oppressiva che lo ha spinto a commettere un omicidio come unica soluzione del suo disagio esistenziale cattivo o indotto a suo malgrado alla cattiveria che sia Tizio l'attenzione si sposta dal fatto innegabile che egli abbia ucciso Caio alle sue supposte qualità morali e il fatto non interessa più a nessuno lo si accantona l'interpretazione del reale può condurre a risultati eccelsi e nobilissimi come anche portare alla rovina le arti figurative la letteratura la poesia la musica e le altre forme di opere dell'ingegno sono di interesse superiore e superlativo ma sempre rappresentazioni rimangono Leonardo non dipinge Monna Lisa la rappresenta Leopardi non descrive l'infinito lo rappresenta Beethoven non butta sul pentagramma il destino ma la sua rappresentazione gli esempi sono moltissimi il bisogno di rappresentazione è forte e ben radicato nell'uomo fin da quando cominciò ad esternarlo dipingendo e con quale grazia bisonti e altri animali sulle pareti rocciose delle grotte in cui viveva ma quelli non erano i bisonti che osservava nel reale erano piuttosto la loro rappresentazione grafica la Gioconda probabilmente non aveva quel sorriso enigmatico e certo quella di Leonardo non fu la sola delle messe a testo di questo mistero si pensi solo all'opera musicale di Ponchielli bisognerà attendere altri secoli per arrivare alla rappresentazione reale del reale più reale quanto meno alla scoperta della fotografia quello che viviamo non è quello che ci accade intorno la morte di un animale o di una persona anche assai vicina a noi possono sconvolgerci o lasciarci del tutto indifferenti o addirittura procurarci sollievo è morto il cane che abbaiava in continuazione o il vicino che ci stava antipatico ma il nostro personale sentire non ha alcun nesso di causa effetto con quello che è accaduto perché anche il pensiero deterministico è un male assoluto siamo abituati a festeggiare compleanni anniversari e ricorrenze più o meno felici esclusivamente perché abbiamo il bisogno di determinarne gli effetti e di conseguenza gestire il presente e il futuro se in una certa data magari alcuni lustri or sono ci è accaduto qualcosa di spiacevole ci soffermiamo sulla coincidenza le coincidenze non esistono tutto ciò che accade è necessario e pensiamo che possa succedere ancora qualcosa e magari succede ma non perché vi sia qualche elemento di causalità da qui ad accedere e fare corso tutti gli altri veleni dell'essere il passo è breve il ricorso alle arti divinatorie agli oroscopi alla chiaroveggenza ai tarocchi alla predizione del futuro da un lato è indice del nostro bisogno di certezze dall'altro rivela la nostra incrollabile volontà di uomini nel gestire e manipolare la vita dimenticando o non sapendo proprio per niente il che è peggio che nulla e nessuno può essere cambiato se amiamo una persona vorremo il suo bene ma non possiamo deciderlo noi per quella persona questo desiderio di avere potere sugli altri porta a relazioni sbagliate nocive tossiche due persone che si amano e in modo adulto consapevole e corretto sanno che l'altro possiede un sistema a sé che non può essere cambiato in nulla lo aveva capito e descritto molto bene Paolo di Tarso in un brano della sua lettera ai Romani quando scriveva che in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione ma in particolare quando mette a testo con singolare e irripetibile lucidità se possibile per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti la vita non dipende solo da noi la prudenza di Paolo ci indica che il nostro sentire può essere altra cosa rispetto a quello delle persone che ci circondano e che abbiamo il dovere di fare nella vita tutto ciò che ci compete e ci spetta il resto non viene da noi ma da ciò che è altro ci sono persone che vengono rifiutate dal partner solo perché amano la montagna anziché il mare o perché detestano il jazz per cui si pensa che non abbiano che poco da condividere con noi in realtà nulla è incondivisibile perché non si condivide mai la montagna il mare o il jazz ma la gioia che questi ci danno si dice con una certa sicumera prosaica che la vera felicità risieda nel compromesso io vengo in montagna con te qualche volta oppure al mare anche se non mi piace e ascolto qualcosa di jazz anche se mi ripugna si tratta di un vero patteggiamento al ribasso del resto si dice spesso che amare vuol dire uscire da noi stessi per andare verso gli altri mai frase fu più in fausta uscire da noi stessi significa spostare il nostro baricentro e cadere inevitabilmente senza contare che il continuo mutare il nostro essere per far piacere all'altro può condurre a follia quando non a morte perché non facciamo altro che adattarci in continuazione del resto anche sono come tu mi vuoi è una frase che ha fratto grandi danni il valore di un essere umano dunque non si misura con la sua capacità di adattarsi questo può essere un elemento utile per la sopravvivenza fisica e ambientale il suo valore non è contenuto neanche nella sua diversità di idee e di vedute bensì nella sua irripetibile specificità non bisogna quindi compiere d'errore di considerare ciò che ha altra specificità dalla nostra come un non dato una evidenza fattuale trascurabile nulla vieta un comunista e a una cattolica osservante di innamorarsi e certamente il confronto su temi di grande spessore come la fede o l'ateismo non potrà che arricchirli tuttavia se dovesse verificarsi una gravidanza indesiderata il tema del dare la vita o scegliere di non darla si presenterebbe subito e in maniera prepotente per cui bene che andrà si baratterà l'amore di coppia con la genitorialità che è cosa ben diversa si dice che si può amare chiunque ama e fai quel che vuoi diceva Agostino di Ponia o almeno così è stato generalmente interpretato nei tempi moderni nel pieno rispetto per la figura storica filosofica e culturale del santo tuttavia è da osservare come questa esortazione sia del tutto falsa fuorviante e priva di fondamento fattuale ci si sente ripetere fino all'ossessione che in una relazione d'amore l'età non conta e invece conta non per questioni biologiche o di prospettiva futura bensì perché un uomo cinquantenne che si innamora di una donna di vent'anni avrà acquisito elementi conoscenze dati esperienze e perfino ricordi che la donna ventenne semplicemente ancora non ha si tratta di un gap incolmabile ma l'uomo innamorato di una ventenne e che butterà le ortiche moglie figli e amici sarà sempre considerato un tormentato dunque desiderabile e la ragazza sarà considerata sempre come l'eterna seduttrice se non addirittura una sfascia famiglie perché l'eterna seduttrice è anche l'eterna bambina una bambina che dice tu sei mio quando nessuno può appartenere a nessun altro molti genitori hanno da ridire quando i loro figli si innamorano di una persona non laureata o che non ha completato il ciclo dei suoi studi fanno malissimo a considerare le persone sotto il profilo esclusivamente economico ma fanno benissimo a pensarlo una laurea e un ciclo di studi completato non significano certo garanzia di affidabilità o inaffidabilità nei confronti di nessuno ma laurearsi o conseguire il minimo titolo di studi non significano nulla di per sé risulta pacifico che una laureata e un contadino non si sa perché il laureato non debba essere il contadino possano stare bene insieme quello che conta è l'esperienza di aver dovuto affrontare e risolvere un problema un enigma una sfida rispondere a una quest per dirla con gli inglesi di più affermare una teoria dimostrarla confutare eventuali obiezioni è un banco di prova per arrivare alla conoscenza al sapere la conoscenza è una caratteristica che salva l'uomo ma di cui l'uomo ignora la fondamentale e irrinunciabile essenzialità soprattutto negli ultimi anni alla conoscenza si sono opposte le varie competenze soprattutto nelle fasi dell'apprendimento scolastico non importa più quello che si sa ma quello che ci compete non è più valido sapere come funziona un software ma saper creare un testo o una tabella nessuno o pochi guardano più al fatto che in un esame di stato venga proposta l'analisi di un testo di un determinato autore che si vede il caso non è stato oggetto di spiegazione da parte del docente occorre saper analizzare un testo qualsiasi decontestualizzandolo svilendolo e a tratti privandolo della propria intima essenza non è più essenziale sapere cos'è un cacciavite ma saperlo usare ora questo tutto al più può aiutare a risolvere un problema di ordine pratico non certo a fare altrettanto con il problema vero di ordine etico che è appunto il non sapere e che costituisce una delle priorità massicciamente distribuite tra il genere umano Umberto Eco diceva che la cultura non è sapere quando e dove è morto Napoleone ma dove andare a reperire quella informazione quando e se se ne ha bisogno aveva ragione ma non aveva fatto i conti con il conformismo e con il fatto che la conoscenza e non la cultura ci salva la vita se io so di che cosa è composto un farmaco e quali sono i suoi possibili effetti collaterali posso decidere io in prima persona se assumerlo o meno a prescindere dalle rassicurazioni e dalle prescrizioni del medico sono io che mi assumo il rischio o non me lo assumo perché il corpo è mio e in prima e ultima battuta sono io che decido che cosa farne sarò grato per sempre al medico che mi ha indicato una strada farmacologica ma l'essere umano non è neutro non è un contenitore critico di contenuti non è oggetto passivo bensì soggetto attivo di tutta la propria esistenza la cosiddetta emergenza pandemica al contrario lungi dall'essere gestita dal personale sanitario in prima battuta è stata affrontata esclusivamente su un piano politico l'individuo non esisteva più ha dovuto soccombere e oscurarsi piegandosi a regole che nella più favorevole delle ipotesi non comprendeva quando non addirittura ha dei ricatti veri e propri si tratta solo di un'esemplificazione estrema ma come tutti gli estremismi ha in sé qualcosa di vero e di cogente immediato ineludibile si è sovrapposto un pensiero unico al pensiero individuale trascurando la dignità umana sono stati creati cittadini di serie A e di serie B odi tra le categorie sociali e professionali disparità economiche e di pensiero e ormai il danno è irreparabile chi ha avuto il bene della conoscenza chi sapeva ha potuto quanto meno scegliere di essere ancora padrone della propria vita e come esserlo gli altri più miseramente hanno dovuto adattarsi uscire da loro stessi e andare verso gli altri dove gli altri non sono un tu generico ma in questo frangente coloro che decidono per te che sanno qual è il tuo bene e qual è il tuo male non è un caso che queste decisioni almeno in Italia siano state prese da una maggioranza amplissima e che partiti che si scannavano fino alla precedente legislatura si siano trovati d'accordo con singolarissima perfezione e con invidiabile sincronismo sul da farsi la conoscenza non è acqua fresca e se lo è ciò accade in quanto ci disseta ci libera dall'arsura delle tenebre di ciò che non si possiede ci fa vedere le cose per quelle che sono e capire cose giusto e buono per noi tra gli attentati maggiori alla conoscenza degli ultimi anni figura senz'altro l'evoluzione inarrestabile dell'informatica e di quelle che sono state denominate imprudentemente nuove tecnologie imprudentemente perché non sono affatto nuove si acquistano dispositivi costosissimi su cui si può fare solo ciò che stabilisce il produttore il cannibalismo informatico sta facendo piazza pulita della compatibilità verso il basso inducendoci a pensare e a credere che l'obsolescenza dei beni sia un fatto acquisito e dato per scontato si è tagliati fuori dal mondo se non si comunica con un determinato applicativo e non si fa altro che abbracciare con amore l'ultimo aggiornamento disponibile la collettività il pensiero che tutto accomuna e che ci rende omologati ci fa pensare che la cultura sia di tutti quando è in mano di pochi e le enciclopedie collettive sono lì a dimostrarlo mentre i loro gestori attraverso l'ennesima organizzazione di volontariato raccolgono cifre da capogiro nel frattempo il messaggio che passa è che i beni non hanno valore che un pezzo di pane si può buttare via senza particolari problemi dimenticando il lavoro di chi dietro quel bene ha speso tempo nella realizzazione e perfino di quello del fornaio che quel pezzo di pane l'ha prodotto per non dire di chi potrebbe sfamarci si problemi come la fame la miseria l'indigenza la denutrizione non sono mai mancati nemmeno nelle generazioni precedenti nella letteratura si sono scritte tonnellate di romanzi sulla fame ma che il mondo abbia fame lo vedono tutti invece che le risposte che diamo ai problemi del mondo e degli umani siano banali e ripetitive quello non lo vede nessuno il diritto a fare e fornire informazione è specifico e inalienabile tuttavia l'individuo oltre a trovarsi di fronte a una informazione variegatissima e troppo sovente contraddittoria semplifica fino all'estremo qualsiasi messaggio egli veicoli o trasmetta in modo che i falsi profeti che la conoscenza ce l'hanno veramente basta che ne sappiano appena appena di più della media aritmetica dell'opinione pubblica e vengono considerati come dei guru ci si affida a questi demiurghi e santoni perché ci risolvano i problemi e così scopriamo ricette di cucina sorprendenti come la pasta al pomodoro e basilico o impariamo da qualche oratore improvvisato che se facciamo una vita regolare riposiamo bene mangiamo cose sane e variate facciamo del movimento e abbiamo delle relazioni piacevoli poi stiamo bene sarebbe fin troppo facile replicare a costoro che tutto questo lo dicevano già i nostri nonni e gratuitamente ma è anche vero che lo dicevano il risultato è che tutto ciò che non si sa fare spiegare non solo diventa un problema ma arriva a costituire un intralcio la scienza non esaurisce le risposte a tutte le domande dell'uomo si tratta di una serie di nozioni non perfezionate spiega e chiarisce alle persone che il raffreddore è una malattia banale e ad evoluzione benigna e favorevole e che di raffreddore si guarisce ma non ammette e non ammetterà mai di non essere mai riuscita a fare qualcosa per evitare di prenderselo il raffreddore lo sterminio ai tempi della scoperta dell'America di milioni di indios per via di un virus banalissimo e a loro sconosciuto è un dato storico non certo un'invenzione si tratta di un esempio spicciolo ma se si prova a trasportare l'esempio sul piano delle emozioni e del vissuto i risultati cambiano uno degli intralci che scorgiamo più frequentemente è la noia nessuno è più disposto ad annoiarsi neppure per un attimo la noia non la conosciamo più non la riconosciamo più ci è aliena estranea tutto ciò che è il nostro vissuto collettivo dovrebbe essere dato per acquisito ma la noia no il trovarsi smarriti e disorientati e il disorientamento è la patologia del secolo di fronte al non sapere cosa fare e al terrore di non dovere o potere fare niente ci debilita ci annienta abbiamo davanti a noi il nulla e il vuoto ma dimentichiamo che il nulla è un materiale è assai prezioso se è vero quello che ci racconta la genesi nel primo mito della creazione mostrandoci un dio artigiano del mondo e che crea tutto ciò che è usando solo il nulla disponibile la terra era in forme sì ma anche vuota il vuoto non è la vertigine è l'opportunità il tempo dilatato il concetto stesso di una vita allargata ci fanno comprendere che la noia ci permette di fermarci di attendere di progettare invece la noia da condizione viene trasformata in pretesto quello ad esempio di poter dar fuoco a un uomo senza fissa dimora che dorne su una panchina perché qualcosa chi si annoia la dovrà pur fare la constatazione statica del nulla non è più contemplata altro intralcio è la difficoltà neanche questa siamo arrivati a conoscere più la facilità il risultato diretto immediato ed effimero ci sono più congeniali se dobbiamo informarci o studiare un argomento preferiamo affidarci assunti e sintesi di poco valore ci insegnano che la sintesi è un dono che va coltivato facendoci dimenticare del tutto che lo studio e l'approfondimento richiedono fatica molta fatica e che ciò che si sa o si vuol sapere ammesso che lo si voglia non può essere esaurito in tre righe di foglio protocollo o in un massimo di 160 caratteri rifiutiamo di leggere libri che consideriamo mattoni e preferiamo il semplicissima brevitatis imitatio tanto cara a salustio una volta per dire che si era letto un romanzo o che comunque lo si conosceva si diceva che si era visto il film oggi se ne legge la sintesi in rete in un continuo gioco al ribasso e al contenimento delle risorse al concetto di lavoro è stato sostituito quello di guadagno che non fa pensare alla fatica e rassicura un po' e il guadagno lo si deve ottenere facilmente e in maniera fulminea ancora sintesi insomma stringere arrivare al nocciolo con la conseguenza che nessuno gusta più la polpa delle cose ciò che c'è intorno risulta assai più semplice vendersi su un social network o scommettere piccole cifre in borsa oppure anche venire pagati per veicolare un certo messaggio pubblicitario ma questa è attività non lavoro questo non dà dignità all'individuo tutt'al più gli concede di permettersi una cena in un ristorante da due soldi se va bene perché se la punta dell'iceberg è rappresentata da successo la base massiccia e più tardiva a sciogliersi rimane ancora sommersa trascinata alla deriva come tutto con la differenza che nemmeno la deriva conosce il dono della sintesi eppure le parole le espressioni la terminologia le frasi e le espressioni sono tutto quello che abbiamo sempre riferendoci alla bibbia apprendiamo che in principio era il verbo la parola l'espressione creatrice il logos dei greci e che attraverso di essa tutto è stato fatto e Dio disse sia la luce e la luce fu il dire è sempre stato l'essere finché abbiamo abdicato al linguaggio e alla sua capacità creatrice e creativa lo abbiamo piegato alle nostre convenienze isolandoci e sminuendo la nostra stessa essenza oltre a quella del messaggio da veicolare l'etimologia delle parole non serve a conoscerne l'evoluzione ma a controllare e monitorare l'involuzione del pensiero degli uomini per quanto paradossale possa apparire questo accade con le parole e le espressioni proprie della volgarità quando non del turpiloquio perché il linguaggio aulico è rimasto pressoché immutato e perché il linguaggio che usiamo è sempre più incline al giudizio e al pregiudizio se le parole non hanno più lo stesso significato non è certo per analogia con la frutta che non ha più lo stesso sapore non si tratta di luoghi comuni ma di autentiche coercizioni a parlare violenze sappiamo tutti cos'è una puttana ma non sappiamo che il termine per quanto grossolano e corrivo deriva da putta ossia ragazzina se non bambina stessa cosa che accade con mignotta dal francese mignon ovvero ragazza donna in giovane età adolescente molta della terminologia dispregiativa di uso banalmente colloquiale fa riferimento alla femmina del topo per designare l'organo sessuale femminile e gli esempi dovrebbero essere facilmente reperibili ma i termini sprezzanti per una categoria umana o per dei singoli individui riguardano soprattutto concetti e attribuzione maschili con rare inversioni di tendenza certo una persona con gli attributi viene ormai definita cazzuta ma lo spregio viene traslato quando definiamo uno sprovveduto con l'epiteto di coglione anche usando accezioni dialettali analoghe come pirla da pirulo ovvero cardine oggetto dalla forma allungata o perfino bischero i bischeri sono le chiavi per stringere e allentare la corda di una chitarra o di un altro strumento se se qualcuno commette un'azione discutibile ha fatto una cazzata ma se l'azione è degna di nota è una figata gli spagnoli hanno un sostantivo maschile per definire l'organo riproduttivo femminile ma ne hanno uno femminile per quello maschile i linguaggi gergali settoriali poi sono molto più crudi e intrisi di disprezzo il militare neo arruolato veniva chiamato spina solitamente dal nonno che era il suo omologo prossimo al congedo il quale gli lasciava la stecca ovvero un oggetto a forma fallica che simboleggiava il periodo rimanente da trascorrere prima di vedere l'alba ossia l'ultimo giorno di servizio nel linguaggio universitario il termine apparentemente neutro di matricola assume valore dispregiativo quando lo si usa negli ambienti della cosiddetta goliardia altra parola che maschera lo spregio e la denigrazione perfino le forze dell'ordine non vanno troppo per il sottile quando devono fare la perquisa di un soggetto tossico dipendente magari in piena scimmia crisi di astinenza perché non aveva nulla da pippare o assumere attraverso il fiuto riferito alla cocaina o altra sostanza da inalazione ciò che viene detto è ciò che si realizza nel concreto non esistono parole spregevoli di per sé il disprezzo l'onta la denigrazione l'umiliazione più bieca tutto questo invece esiste e come le parole creano mondi sono uno strumento forse imperfetto e inadeguato ma realmente e immediatamente disponibile forse l'unico anche e soprattutto quando diventano carta bollata indirizzata alle procure o ai tribunali incaricati di riesaminare un caso sono le stesse che usano uomini e donne che abdicando al ruolo e alla potestà genitoriale proclamandosi amici dei propri figli non solo li difendono nel percorso scolastico ma si trasformano addirittura in loro complici quando si tratta di malmenare gli insegnanti o contestare un voto più che onorevole conseguito al termine del percorso di studi superiore e quello che in maniera edulcorata si chiama complicità in linguaggio giuridico diventa nel caso di due genitori e un figlio concordi nel sostenere l'insostenibile associazione per delinquere molte espressioni hanno finito per perdere la loro valenza denigratoria tanti sono stati l'uso e l'abuso che ne è stato fatto nel corso dei decenni me ne frego era sinonimo di ribellione opposizione ai modelli imposti oggi nessuno scorgerebbe più la pure evidente non velata allusione all'autoerotismo il linguaggio denigratorio e offensivo viene sempre più tollerato maggiore è la tolleranza dei parlanti minore è la coscienza degli effetti del loro uso un generale dell'esercito autore di un libro di grande fortuna commerciale quasi nessuno entra più in libreria per chiedere un'opera di Dante Alighieri si è lamentato del fatto che in nome del politicamente corretto altra immagine linguistica da ripudiare se ne conviene non si sia più liberi di usare espressioni come frocio checca o finocchio in nome non già della pretesa libertà di espressione ma della libertà di insulto tacciata da convenzione ormai invalsa e tacitamente accettata chi tace ha consente la libertà di insulto ponendo a premessa che certe locuzioni hanno perduto il loro valore spregiativo se rivendicata per sé dall'individuo si trasmette inevitabilmente come modello alle generazioni successive perché l'uomo non trasmette solo parole ma fatti e realtà concreti e con una risorsa educativa che ha scambiato la propria missione pubblica al servizio di chiunque per una più disinvolta gestione aziendale non c'è che da preoccuparsi tutti siamo impegnati nel triste e doloroso compito della mitigazione e del ridimensionamento dei fatti i fatti sono il principale mezzo per confutare e mettere a tacere uno dei vizi più odiosi che l'uomo abbia mai sviluppato quello relativo alla polemica sia polemica quando ci ostiniamo a voler pervicacemente e in maniera ottusa e cocciuta sostituire il nostro pensiero alla realtà negandola modificandola addolcendola plasmandola a nostro bellaggio a cominciare dalle parole stesse chiamiamo compagno o compagna la persona che ci sta accanto e che assumiamo di amare solo perché non vogliamo sottolineare il carattere non impegnativo della relazione ci definiamo amici dei figli perché sappiamo molto bene che l'amicizia è un sentimento che non prevede implicazioni successive di alcun genere e le reti sociali ce lo dimostrano facendoci chiamare quotidianamente amico chi semplicemente apre un canale di comunicazione dichiariamo un fallimento relazionale scomodando la sfera emotiva l'amicizia è un sentimento che va bene per tutte le stagioni un abito pret-à-porter adatto ad ogni taglia che ci fa vedere l'altro come assessuato quindi monco di una sua dimensione essenziale e del resto nessuno più va dal sarto a farsi cucire un vestito su misura oramai chiamiamo diversamente abili le persone affette da handicap fisico o psichico per non usare accezioni che possano turbarne la percezione sociale quando i primi ad essere disturbati da loro sono proprio i parlanti consideriamo che dei giovani che hanno investito un bambino mentre erano intenti a girare un filmato da inserire nelle reti sociali abbiano fatto una bravata e che un incidente può capitare a tutti parole che modificano rimodulano cambiano trasformano la realtà e assolvono assolvono sempre l'interesse a praticare tutto ciò è lo stesso che sottende alle paure più primordiali dell'uomo quella è verso la morte in questo caso quella civile e verso il futuro al punto che il futuro inteso come tempo verbale dell'indicativo non viene quasi più usato domani vado a trovare un amico il domani non lo vediamo non si affaccia neanche all'orizzonte tutto è tramonto e l'imbrunire del presente indicativo tarda sempre ad arrivare in molti si giustificano dicendo che vivono alla giornata che adesso sono qui tra un'ora là e domani non si sa del resto si aggiunge domani potremmo anche non esserci più e allora perché affannarsi tanto ma queste persone vengono meno al primo istinto vitale dell'uomo che è la speranza la speranza non è una virtù ma qualcosa di profondamente inscritto quasi scolpito all'interno dello stesso DNA di ogni essere vivente come il colore degli occhi il linguaggio o la predisposizione a coltrare malattie quanti si dichiarano disinteressati a ogni prospettiva futura non dovrebbero essere interessati alla morte all'assenza alla fine sono persone assai pericolose perché ritengono che il cambiare continuamente per adeguarsi alle richieste e alle esigenze di tutto ciò che è esterno a loro sia l'unico modo per vivere quando in realtà è l'unico modo per cadere nella più totale follia domani anche se dovesse accadere di non esserci più il mondo continuerebbe ad andare avanti una consolazione enorme anche per chi paventa un ingombrante spirito edonistico e narcisistico insieme margherita hack affermava che siamo fatti della stessa materia con cui sono fatte le stelle se la morte si sconta vivendo chi la teme o peggio ancora la invoca a difesa della propria superficialità non è nemmeno in grado di vedere questa inconfutabile realtà né più nemmeno che il popolo dalla dura cervice di cui riferiscono i testi sacri riferendosi a quegli animali che avendo una spessa cartilagine all'altezza del collo vedono impedirsi la facoltà di guardare verso l'alto un altro grande ateo Edoardo De Filippo dopo aver constatato nell'ultima battuta di Napoli milionaria che l'uomo fa quello che può e per il resto deve attendere gli eventi ad a passà nottata che non dipendono da lui concludeva l'ultimo intervento pubblico della sua vita con la frase di speranza più autentica che essere umano abbia mai pronunciato anche questa sera mi batte il cuore e continuerà a battere anche quando si sarà fermato l'uomo